La Dricesta mette un altro tassello importantissimo nel reparto di chirurgia pediatrica, è una storia che inizia con un dolore nel cuore e finisce con un gesto di grandissima nobiltà? E' un sogno, era un sogno quando per motivi analoghi io e mio marito andammo a Roma al Policlinico Gemelli e ci rendiamo conto che entravamo negli anni 90 in una realtà completamente diversa da quella che era quella di Pescara, poltrone letto per il genitore che assisteva, molto comfort e anche e soprattutto per il bambino. Tante cose sono state fatte qui a Pescara perché dal punto di vista medico sicuramente l'eccellenza c'è, però in effetti il comfort lo lasciava desiderare con degli arredi obsoleti e ricordo che mio marito disse noi siamo andati a Roma ma molti genitori non possono andare a Roma quindi è giusto fare qualcosa anche qui. E in occasione della serata dedicata a lui nel 2013 abbiamo pensato di arredare una cameretta, all'inizio era una cameretta per i bimbi più piccoli da 0 a 12 mesi, poi il risultato fu eccezionale e ne arredammo due. Però da lì fumo sollecitati da alcuni genitori e alla fine abbiamo preso tutto il reparto. Quando li vedremo saranno bellissimi e addirittura li abbiamo fatti anche più belli di quelli di Roma perché mi hanno detto noi ci abbiamo messo un po' più di tempo ma l'abbiamo fatto e quindi il sogno che era nel cassetto del socio fondatore della Dicesta e soprattutto del nostro ispiratore di Buoni Propositi che era Giampiero Benzino rimane così. Infatti il reparto è dedicato a lui, ci sarà una cameretta che c'è stata proprio una donazione di Alessandro Preziosi e della mia famiglia che è dedicata a lui da parte nostra ma si sono mobilitati tutti gli imprenditori, le forze dell'ordine, tanti sono stati, è stata veramente una grande cordata di solidarietà.